Ciao a tutti, oggi prepareremo i muffin nutelle nocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, fegola di patate, yogurt alle nocciole, lievito per dolci, vanillina, zucchero, sale, uova, cacao amaro, nocciole tostate, nutella e olio di semi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farfalla, versiamo gli albumi e il pizzico di sale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e li facciamo aumentare per 4 minuti a velocità 3,5 minuti. Gli albumi sono perfettamente montati, rimuoviamo la farfalla e mettiamoli da parte in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale mettiamo i tuorli, la vanillina e lo zucchero. e li facciamo montare per 4 minuti a velocità 4. Aggiungiamo lo yogurt. e l'olio e l'olio. E azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4. Aggiungiamo la farina, la fecola, il cacao e il lievito. ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4. Il composto è pronto, versiamolo negli albumi. adesso mescoliamo delicatamente con movimenti dall'alto verso il basso. una volta amalgamato l'impasto, versiamolo nei pirottini per muffin. Dopo aver versato il composto all'interno dei pirottini, mettiamo al centro di ogni pirottino un cucchiaino di nutella. completiamo coprendole con le nocciole sbriciolate. cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 25-30 minuti. i muffin sono cotti, lasciamoli intiepidire prima di servire. muffin, nutella e nocciole. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!